Anzi è da prima elementare? Ecco il set che ho appena scelto per Edoardo del brand tedesco Ergo Bag. Zaino prime nella nuova fantasia Triceratops. Leggero e capiente, ha lo schienale regolabile in altessa, il fondo stabile e resistente all'acqua. È simile ad uno zaino da trekking ed è completamente ecosistentibile. Astuccio maxi con triplo scomparto con tre zip e tasca per le monite. Contiene tutto il necessario per la scuola, penne, colla, righello, 18 matite colorate, 18 pennarelli e tanto altro ancora. Box porta quaderni in formata a 4 per tenere tutto in ordine. Borraccia con apertura easy to drink da 500 ml, pratico tappa a vite con fissura sul coperchio, lavabile in lavastosiglie. Sacca sportiva con una comoda tasca frontale da usare per il cambio sportivo o qualunque cosa di erba da portare con te. E si allaccia allo zaino. Noi siamo pronti e voi?